Texture, colori e forme, questi sono i paesaggi aerei firmati dal fotografo Andrea Bonavita. Ultimi giorni per vedere la mostra Downgrade al Museo Idro di Re Dracoli. Aperta fino al 2 luglio, la mostra raccoglie immagini che richiamano l'ambiente e la sostenibilità. C'è una mia mostra di foto aeree, appunto a Idro, sono foto fatte dal parapendio e è una mostra nata per promuovere il mio nuovo libro Downgrade che appunto tratta di foto aeree della nostra zona Romagna o zona limitrofe. Quante sono le opere in mostra e esattamente questo libro Downgrade da dove nasce? Sono circa 20 foto e il libro Downgrade nasce appunto perché vedo dall'alto delle cose molto belle e delle cose un po' meno belle e mi piace l'idea di poterle fare vedere a tutti. Che cos'è la fotografia aerea nel tuo caso e come vengono realizzate? Io volo in parapendio, parapendio a motore e scatto e quindi dall'alto mi muovo vedendo un po' le zone più belle della nostra Romagna. Questa è una mostra di tante altre che fai, quindi le tue foto in questo momento stanno girando in festival e anche altre mostre. Sì, stanno girando in tanti posti durante quest'estate, ho diverse date, sul mio sito ci sono tutte le date e i luoghi e sta girando parecchio.